Ciao amici, nel video di oggi parliamo di un metodo che ho, mio malgrado, inventato per gestire le campagne di D&D. Potrebbe essere forse un pochino ispirato a un metodo di Dungeon World. Vi racconto la storia. Allora, succede questa cosa, che io e il mio amico Stefano ci mettiamo a creare un'ambientazione per un gioco di ruolo, così per divertimento circa un anno fa. Creiamo tutto, il fatto che c'è un Underdark, il fatto che ci sono delle città che hanno delle caratteristiche, che il fatto che c'è una pandemia, il fatto che non ci sono Halfling per un motivo di storia ben preciso. Bene, dopo un po' di tempo un mio giocatore del gruppo storico, diciamo, cioè Paolo, dice Ah, vorrei giocare con la mia ragazza, cioè Michela. Niente, non ci organizzo una roba, una one shot, una cosa veloce. Ok, io dico, ah sì, ho questa avventura qui. Allora, porto dentro anche la mia ragazza nel gruppo, quindi due donne e un giocatore esperto. Invece le donne hanno giocato poco a D&D. E mi invento questa storia ispirata ai Promessi Sposi, perché secondo me poteva avere un certo appeal, diciamo, portare anche un tema un po' diverso, di romanticismo, di una guerra d'amore sostanzialmente, dove Don Rodrigo deve conquistare Lucia e rapirla in verità. Ok, e vi faccio giocare questa roba due, tre sere e finisce. All'interno di questa storia c'è un rapimento, un rapimento di Regolo, che sarebbe Renzo. Che ovviamente è solo ispirata ai Promessi Sposi e non sono i Promessi Sposi. Regolo viene rapito, ma questo rapimento io lo racconto nella storia. Succede questo, loro sono da un'altra parte, accade questa cosa qui. Finisce lì. Boh. Però questa storia mi era piaciuta molto. Aveva creato dei personaggi molto interessanti e ognuno aveva delle caratteristiche che era rimasto impresso ai giocatori. Qualche tempo dopo, causa lockdown, un gruppo che invece ha raccattato online, che saluto anche questo gruppo, mi dice Ah, dai, facci giocare a qualcosa. E io invece di creare un'altra storia, da un'altra parte, di fargli rigiocare ai Promessi Sposi, ho detto Ma, sapete che, sì, Regolo è stato rapito, ma chissà com'è stato rapito. Ok? E quindi gli ho creato una one shot nella quale loro sono i rapitori di Regolo. Quindi giocano all'interno della storia di altre persone, facendo un evento che è già avvenuto, cioè che io so già dove porta e qual è il suo significato generale, ma loro lo giocano nello specifico e mi raccontano come è stato rapito, dove, perché, è stato facile, è stato difficile, dove l'hanno portato, come ha fatto a liberarsi, se si è liberato, eccetera. E li faccio giocare quella roba lì. A me viene molto semplice masterarlo, perché io so esattamente che è regolo, so perché viene rapito, so quale cosa... Ancora do botta il microfono. So cosa gli succederà in futuro. E quindi a loro, loro giocano, comunque io gli faccio, gli do ampia, ampio margine di azione, e loro fanno tutto quello che vogliono, creano loro il rapimento, che io non avevo neanche minimamente immaginato. Nel fare questo, ovviamente, io ho ampliato la storia del vecchio gruppo, e a loro ho fatto giocare una storia già ampia. Dopodiché un altro gruppo mi dice, ah, anche noi, fammi giocare qualcosa, una one shot, una roba un po' più lunga. E niente, allora mi invento che l'altro gruppo aveva incontrato questo personaggio molto particolare, che però ha una storia strana che io ho improvvisato al momento, cioè che lui, praticamente, incontrano questo chierico, che si chiama Casbeno. E solo che poi, così improvvisando, gli dico che uno di loro si ricordava che questo era morto 15 anni prima, a caso. Dopo un po', e niente, quindi la storia va avanti, anche se questo era morto, non è importante. Un po' di tempo dopo dico, ma questo Casbeno, com'è la sua storia molto particolare? L'altro gruppo mi dice, vorremmo giocare questa roba horror? Dico, perfetto, vediamo qual è la storia di questo Casbeno. Quindi, con la scusa di far giocare questo gruppo, io amplio la storia del mondo. I giocatori con le loro azioni modificano la storia del mondo, perché quello che succede, cioè la storia che io racconto agli altri gruppi, è stata creata da qualcuno. Sono molto contenti loro, sono molto contento io perché faccio metà del lavoro. E soprattutto ho, diciamo, ampi margini nei quali lavorare, cioè so quali sono i miei limiti, so dove posso andare a parare, so qual è la storia di un oggetto o di un altro oggetto, perché l'ho vissuta. Secondo me questo funziona perfettamente. Adesso, io potrei raccontare tutta la loro, e forse un giorno lo farò, anche solo così da tenere come video diario, tutti gli avvenimenti che ci sono in questo mondo. Ma adesso non è questo il momento di farlo. E ecco, il motivo per il quale io so bene la loro è prima di tutto perché l'ho creata io, ma soprattutto perché l'ho vissuta, cioè io l'ho fatto giocare tutti gli avvenimenti. E quindi so, se uno mi chiede, ma perché Rego l'ha fatto quella roba lì? Lo so, perché l'ho fatto giocare, cioè ho visto perché l'ha fatto, ok? Non devo improvvisare al momento, ho questa cosa qui. E soprattutto, qualcuno mi dice, vogliamo farci giocare qualcosa, oppure una campagna più lunga, più corta. Perfetto. Quali dei 10.000 avvenimenti che ho improvvisato potrei ampliare? E glielo faccio fare. Quindi fatemi sapere, se avete capito prima di tutto il principio di questa roba. Se la conoscevate già, non ho mai sentito nessuno parlare di questo metodo. Se vi sembra un'idea interessante, fatemi sapere tutto, insomma, se avete qualche consiglio. Se volete soprattutto sapere la lore del nostro, di questo mondo, delle terre di confine qua, delle... Adesso la mappa la stiamo ancora sistemando adesso, perché comunque ho giocato un po'. E un'altra cosa che appunto io della mappa, adesso torniamo indietro un secondo, della mappa avevo creato due... Cioè, sapevo la storia di due città. Sapevo chi erano i reggenti, eccetera. Però, fine, no? Ho creato davvero tre robe. E tutto il resto, quello che si è creato intorno, l'ho improvvisato, l'hanno improvvisato i giocatori. Mi hanno detto, ma non c'era un monastero per caso? Allora dicevo, ah sì, c'è questo monastero, il capo, però ha subito un attentato, sono morti 120 fedeli, l'attentato è successo, cose improvvisate al momento, che però ampliano completamente la storia. Niente. Fatemi, rispondetemi a tutte le domande che vi ho fatto prima. Arrivederci.